Il precariato è diventato una vera e propria piaga anche nel mondo della scuola. A lanciare l'allarme la Will che insieme alle altre sigle sindacali a livello nazionale ha aperto un confronto con il nuovo ministro dell'istruzione Valditara sul tema degli organici della scuola affinché si arrivì a quella stabilizzazione di personale docente data chiesta da anni ma non ancora realizzata. A Campobasso in mattinata la segreteria regionale della Will Molise ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Nel Molise coloro che non hanno ripreso il lavoro quindi che sono stati licenziati nel 2021 sono oltre mille persone tra personali docente ad della provincia di Campobasso e anche di Sernia quindi sono cifre importanti perché dico importanti perché stabilizzare il precariato dare una prospettiva di vita alle persone significa anche che per loro aprire un progetto nel Molise con poco più di 50.000 euro si stabilizzerebbero mille persone cioè non c'è più ogni altro quella che è la girandola delle nomine domande di soccupazione domande di precariato quindi domande di aggiornamento delle graduatorie stabilizziamo tutti si può fare il grosso del precariato nelle scuole secondarie e secondo grado qui là le superiori più dalla metà dei posti che sono stati conferiti a supplenza sono tutte nella scuola secondaria e secondo grado poi segue la scuola media, ex media secondaria e primo grado in ultimo i posti diciamo meno vacanti sono infanzia e primaria invece per quanto riguarda il personale ATA? Per il personale ATA è drammatica e drammatica soprattutto per i collaboratori scolastici pensate che l'anno scorso che c'era un organico aggiuntivo ex covid solo nella provincia di Campobasso sono stati assunti 450 persone come personale ATA cioè 450 posti di lavoro in una provincia come la nostra si sentono quelle persone oggi stanno a casa perché sull'organico ex covid ancora non riusciamo ad avere la giusta attenzione da parte della politica e giovedì primo dicembre il sindacato ha organizzato un'assemblea sindacale a Campobasso all'istituto Petrone per affrontare tutti i temi rimasti ancora sul tappeto che riguardano ovviamente il mondo della scuola